Lunedì 3 agosto, Pasquale, ritorniamo ancora con una puntata del podcast e mi sa che siamo alla puntata 95. Puntata 95, oggi un lunedì incredibile, veniamo da una settimana, lunedì scorso, abbiamo intervistato Paolo Bergamo di Salesforce. Se ci hai seguito, insomma, anche tu hai l'adrenalina a palla come noi. Poi se te la sei persa vai su jaspigatasemplice.it perché lì trovi il link per riseguire l'ora che abbiamo fatto insieme a Paolo direttamente dalla California. Da Santa Monica, come ha detto lui, insomma, e con lui stiamo pensando di organizzare anche altre attività insieme. Ma oggi vogliamo parlarvi di due notizie bomba bomba, ma anche di un argomento interessantissimo del 7 di settembre. 7 settembre parte la AI Academy, che è un percorso di apprendimento. Non so se hai avuto già modo di guardare un video in cui parliamo di questo percorso con grandissimi brand della portata di Google, Amazon, Facebook, IBM, Enel, poste italiane. Insomma, abbiamo messo dentro davvero tutti. Un percorso che parte il 7 settembre, tutti i lunedì alle 17.30. Per chi si iscrive, ragazzi, non perdetevi l'ora di incredibile apprendimento, formazione. Ci saranno un sacco di applicazioni di intelligenza artificiale per i manager del futuro. Quindi non preoccupatevi, non è un percorso tecnico, non è un'accademy tecnica, ma si parla di business, si parla di marketing e di innovazione. Quindi ia.semprice.it per tutti i dettagli. Ricordiamo che è un posto di networking in cui puoi fare tante attività insieme agli altri, insomma puoi confrontarti, avrai la possibilità anche di candidare il tuo progetto direttamente alla community per poterne parlare insieme a loro e raccontarti chi sei a 360 gradi, la tua azienda, il tuo progetto di innovazione. Ma entriamo nel vivo Pasquale, perché insomma sul sito IA Spiegata Semplice trovate tutti i dettagli, ma oggi partiamo con una news che abbiamo trovato di Forbes che individua le 50 startup di intelligenza artificiale con sede negli Stati Uniti che stanno performando meglio di tutte quante. Quindi quel famoso milioncino da investire, Giacinto, sappiamo dove. Sappiamo dove, sappiamo dove. Faremo sharing. Sappiamo dove. Ne vogliamo raccontare qualcuno al volo? Dai, dai, partiamo. Allora, molto interessante, io parto da questa, mondo automotive, ce ne sono davvero di ogni, si chiama Ghost, ed è la startup che inserisce la tecnologia di guida autonoma nelle auto convenzionali. Wow, incredibile. Quindi hai un'auto, hai appena magari comprato un'auto normale, no, un normalissima auto a guida, guida non autonoma, guida uomo. Ah, guida uomo. E con Ghost, quindi questa applicazione di intelligenza artificiale, puoi dotare la tua auto di un sistema di guida autonoma. Gli fai l'upgrade, grazie. Allora, io resto sul tema automotive perché ti presento Aurora, che è una società che crea software per auto a guida autonoma. Perché ricordiamolo, le auto a guida autonoma non sono le ruote che si guidano da solo, insomma c'è un software lì che mette in moto tutto il sistema. Quindi Aurora è una delle altre startup nel mondo automotive che sviluppa algoritmi di intelligenza artificiale. Ancora una, Lemonade, servizi finanziari, vende, pensa un po' Giacinto, assicurazioni usando un robot. Dai, incredibile. Di questo ne avevamo parlato anche con il nostro amico Alfonso, insomma qui di applicazione nel mondo software, automotive, finance, healthcare. Ce n'è anche una startup che identifica e scopre quali sono i farmaci con potenziale medico. Quindi Genesis Therapeutics, andatevela a guardare. Incredibile. Insomma, 50 startup, peccato che sono tutte negli Stati Uniti, ma insomma speriamo che anche grazie al nostro progetto le startup italiane possano emergere un po' di più. Che ne pensi? Assolutamente. Senti, se sei uno startup per l'AI Academy è anche per te. Eh già, eh già. Quindi mi raccomando, iaspiegatasemplice.it. Giacinto, passiamo alla seconda news. Si parla di architetture, si parla di culture, si parla di arte, si parla del mondo che amo. Si parla di dati legati ai beni culturali, pensa un po' Pasquale, hanno messo insieme tutti questi dati che sono circa 102 milioni di punti annotati, in sostanza annotati nel senso che hanno un commento, e rappresentano un po' una grande quantità di beni culturali del mondo. E questo permette a tutti quelli che hanno necessità di sviluppare un algoritmo nuovo, un nuovo software, partendo da questo dataset, di poterlo utilizzare e magari anche di arricchirlo. Esatto, è un vero e proprio dataset, quindi un insieme di dati relativi al mondo dell'architettura e della cultura. E' bello sapere che in un mondo come questo, come quello della cultura, ci siano anche applicazioni di AI così interessanti, così utili. Bene, e allora, se sei una startup, tieni d'occhio anche questo dataset e tieni d'occhio il sito IASpiegataSemplice, perché ci sarà spazio anche per te, che sei una startup, se vuoi mettiti in contatto con noi, perché ci sono delle possibilità di comunicazione anche per te. Noi ci vediamo lunedì prossimo 10 agosto. Ciao! Ciao, ciao!